Bella, guardiani, qui è Jibji. Ora ci troviamo su Nessus, in questa tomba dello scrutatore, perché ci è arrivato Xur e quindi andiamo a vedere che cosa ci ha portato questo giro. Allora, guardalo qua. Cannone a trazione. Questo è veramente divertente da usare. Carino anche da vedere, ma è anche veramente divertente da usare. Un'arma pesante, questo qua. Comunque, quest'arma emette un potente impulso che spinge i nemici e sopprime le loro abilità e li rende più vulnerabili a tutti i danni. In più, vabbè, ha maneggevolezza per un breve periodo di tempo dopo l'attacco. È veramente divertente. Questo qua, più che utile, è anche divertente. Poi sì che funziona anche con i boss, ha dei buoni impieghi, però è veramente divertente. Una volta mi sembra che era un'arma speciale che poi è stata messa e inserita nelle armi pesanti. Non sono certissimo, ma mi sembra di sì. Allora, per il cacciatore invece abbiamo giuramento. La tensione degli archi può essere tenuta per un tempo indeterminato. Qui, chi gli piace bello, bello da vedere, snello e chi ha vari colori soprattutto. Chi piace usare tanto gli archi, questo è da avere. Con il cacciatore, chiaramente. Qui hanno rubato il casco a 114, quindi finalmente potremo vederlo in volto. Ah, questo è il bersaglio che entrano in guardia dell'alba e vengono accecati, mentre gli alliati che vi passano attraverso ottengono una protezione da vuoto. Parare con lo scudo della sentinella, cerca i bersagli vicini. Bello, proprio bello, sembra uno scopettone. No, però è veramente carino, in base anche al colore che gli si dà. Comunque lo si vede continuamente in testa a 114. Per lo stregone invece abbiamo rocca controversa. Allora, subisci meno danni mentre carichi una granata da vuoto. Quando fai quella più potente, bisogna trattenere il tasto per farla. Le granate da vuoto caricate ripristinano una porzione dell'energia delle granate a ogni colpo. Utile, sì. Solo per il vuoto, quindi diciamo che in questa stagione vanno benissimo. Esteticamente no. Esteticamente sono proprio tolto quella fascia luminosa che va verso nella mano, appunto dove va a caricare la bomba. Il resto è un sacchetto di plastica avvorto intorno all'avambraccio. E qui, ragazzi, ci fermiamo. Ciao a tutti!